Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di MondiCubi Allora ragazzi aggiorniamo subito il nostro libretto Ah no non si può, beh comunque siamo a 328 Grazie a tutti ragazzi Allora qua c'è del diamante Sì del diamante Good Guardate quanto Guardate quanto Ma sono matti Ottimanti Ok basta Allora prendo anche questo Cosa butto? Ah si ho formato un po' di ossidiana È giusto due stack poco poco Dov'è che la metto sta roba che ho ancora la roba dell'altra volta Buttiamo via questo Ok ragazzi Raccolgo ancora un po' di roba e ci vediamo tra poco di sopra Rieccoci ragazzi Allora grazie a tutti ragazzi per lo scorso video Perché ho visto che lo speed build vi è piaciuto un casino Sono contento, ne farò altri sicuramente perché ha fatto veramente molto successo Ragazzi voglio veramente ringraziarvi per questo Cos'altro devo dire? Devo anche dire Oddio qua ho un po' troppa roba Farmiamo? Sì farmiamo cosa dico? Posiamo il ferro E prendiamo il piccone con fortuna Così convertiamo questi bei diamanti Oggi probabilmente faremo land L'ultimo bioma che ci manca Sì probabilmente Ok eccoli qua Un murro di diamanti Ok Sa andiamo appunto a trasformarli Guardateli quanti Opa 19 L'abbiamo raddoppiati Veramente sono contento Andiamo a metterli direttamente nella ender chest Così non ce li dimenticheremo mai di qua Ok E sì con questo sidano creeremo Varie Varie torri Il problema qual è? Allora prima di tutto ho già cominciato a fare una piccola postazione Oddio dove cavolo vado? Una piccola postazione eccola lì Dove appunto ci sarà land Si accederà con un po' d'acqua al land E il problema è che sicuramente non mi basterà la handstone Quindi devo fare un piccolo stacco ragazzi ancora E devo andare a prendere nel land un po' di handstone E andarne a farmare un bel po' Quindi direi che prima di tutto poso questo piccone con fortuna E poso anche un bel po' di materiale Ah a proposito Che fine ha fatto il mio letto? L'ho messo sul faro ragazzi Perché quel faro è troppo figo Ditemi se volete che ci metta ancora tipo una palla di glowstone sopra Per fare tipo effetto faro Ma non vorrei rovinarlo Ditemelo voi nei commenti Allora Ok direi che poso un po' di cose Poso tipo una barca Si? No non piccone Una barca Una barca La coble stiamo ad usarla nel tempio Questo l'ho poso E questo l'ho poso Ok ragazzi Quindi faccio ancora un altro piccolo stacco Ci vediamo tra pochissimo Ok ragazzi Rieccoci Ho messo tutta la cobblestone nel tempio E sto andando a prendere l'handstone E ho fatto questo piccolo stacco Questo piccolo taglietto Qua non si carica nulla Perché? Perché praticamente Oddio Levatevi E caricati Chunk Caricati 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 Ok E voglio farvi vedere una piccola cosa Ho sistemato il problema dei portali L'ho fatto off camera Perché la cosa poteva Sembra noiosa Quindi Qua mi sono segnato le coordinate del faro E del portale E non della fortezza Scusate E così Sono riuscito Con dei vari trighi strani Non ho usato assolutamente La creativa Tranquilli A ricreare il portale Dove era nel mare Quindi poi Costruiremo anche una piccola station Per quanto riguarda Quel portale lì Perché qua non si carica nulla? Non lo so Comunque adesso noi ce ne andiamo Quindi non è più un nostro problema Ok Guardate che figata l'acqua Che non si vede nel mare Oddio E niente ragazzi Quindi Adesso io prendo Tutto L'ambardam Oddio lag Sì perché si possono spawnare un sacco di mob E E vado appunto A farmare un po' di Endstone Quindi io Faccio ancora questo piccolo stacco Lo so Sto cercando di velocizzare molto Perché è una parte noiosa E ci vediamo tra pochissimo Ok ragazzi Rieccoci Come vedete Ho farmato veramente tantissima stone E scusate Endstone E ne ho ben 4 stacche e mezzo Buonissimo direi Allora Andiamo di qua Quindi Ho messo un secondo in pace Perché i rumori Degli endermen Mi stavano assordando Adesso Rimetto Tutto come deve essere State tranquilli Non cito nulla Ok Vado di qua Guardate Guardate Quanti si sono spawnati Già in un secondo Ok si qua C'è la solita Roba strana E qua Siamo appunto Sul faro Nel letto Dove noi dormiremo Subito E appunto Ci troviamo Perfettamente Dove vogliamo essere Là c'è un Piccolo ragno Che Uccideremo Opla Molto utile Questo faro Perché ci permette Appunto anche di Uccidere un po' di gente Ok Qua Si può scendere Tranquillamente Perfetto Ragazzi Quindi direi che E adesso Possiamo Dedicarci Alla Costruzione Della Dell'isola Dell'end Appunto Allora Come voglio farla Bella domanda Allora Sono raffreddatissimo Ragazzi C'ho una tossa addosso Quindi se ogni tanto Vaggio Cercate di capire Che Sono Praticamente Bloccatissimo Proprio Sono messo male Ok Comunque noi di qua Dovremmo arrivare A questo gettino D'acqua Che ci porta Fin lassù Adesso logicamente O velocizzo Non lo so No velocizzo Una cosa così Mi sembra addirittura Noioso Direi che Adesso appunto Lavoro un pochettino All'ingrandimento Di quest'isola Perché non voglio Noiare Cioè sarà Ho già fatto tanti tagli Però erano cose Noiose ragazzi Lo so che Voi volete vedere tutto Ma Altrimenti Poi altri Si stufano E io non voglio Assolutamente Che la gente Si stufi Ok Quindi Adesso lavoro un pochettino Qua E niente Quindi faccio questo piccolo stacco Non so se avete visto Che è anche già uscito Il primo episodio Di Tricraft Ragazzi Questa serie Con le mod che Tutti quanti Volevate Finalmente Arrivata Spero che vi piaccia E mi raccomando E mettete un bel like Perché ci siamo divertiti Veramente tanto Ragazzi Secondo me Questa serie Farà successo Secondo me Farà veramente Un grandissimo successo Là c'è un canyon Si E niente ragazzi Quindi faccio questo piccolo stacco E ci vediamo tra pochissimo Ok ragazzi Rieccoci Metto un secondo La creativa E Mod 1 Ok Perché voglio dire Come è rimasto Si doveva ingrandirla Ancora un pochettino Comunque Guardate là Laggiù c'è un isolotto Adesso voglio solo Darci un'occhiata Ma Oddio Là c'è un isolotto Lasciamolo stare Ma così sarebbe eccitare Veramente E Si Ci sta Allora devo ingrandirlo Ancora un pochettino qui Ancora un pochettino qui Ok E un po' qua Si devo ingrandirlo un po' Dappertutto alla fine Però dai Non sta venendo malaccio E Quindi direi che adesso Rimetto la mia Modalità di gioco Normale Ok E ricomincio Con la Tanto ambita Costruzione Tanto ambita Più o meno E Niente ragazzi Comunque Adesso siamo quasi alla fine Quindi non farò più stacchi E Sta per uscire a 1.7 Così dicono Dalla regia Bah Io ieri ne ho parlato con Mnemonic Mnemonic ha detto Che secondo lui non usciva Stasettimana Perché I Creatori di Minecraft Sono sempre molto Svegli E puntuali E Non lo so Mi auguro di si Logicamente Almeno cominciavo La seconda stagione Però io In effetti Preferirei anche Che ci mettesse Di più Più tempo Perché così Aggiungono più cose Sistemano più bug Fare le cose Cioè le cose fatte con calma Sono sempre le migliori Come dico sempre io No E Infatti il farlo L'ho fatto con calma Poi ho velocizzato dopo E' venuta una figata E Niente ragazzi Comunque Adesso appunto Farò Una cosa assurda Vero Delle torri di Ossidiana So già Che Me ne pentirò Vero Sì perché Le torri di Ossidiana Se le sbaglio Sono Cavoli amari Ma Amari 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 Quindi devo pensare Un secondo Come farle Devo pensare Un attimo Dove farle Scusate la piccola interruzione Ragazzi E Ma Come avete potuto notare Il telefono Stava squillando Logicamente Quando uno registra Dovinate un po' Tutte le interruzioni Nel mondo Qua potrei lasciare un buco Sì Sì Ci sta Ci sta assai Questo buco Ok Ci sta Lasciamolo così E Anche questa parte È alzata La lascio E qua Penso che farò La Oddio Ho paura di Beccare questo cubetto E morire Nell'ultimo video Sono morto L'ho fatto un fail Allucinante Allora Allora Ne manca ancora un pezzo Vero? Sì Comunque Andiamo un attimino Tipo sulla torre Del faro Che tanto È là Che Anche chi scaricherà La mappa Ammiererà tutta la mappa No? Quindi Tra l'altro Sta pure facendo notte Quindi proprio Perfetto Perfetto Oddio Ho centrato il ponte È venuto molto bene Credo che Il design Del Della Mar Oh mamma mia Lo chiamo Marble Brick Da quanti episodi è che lo chiamo Marble Brick Dello Stone Brick Del legno grezzo Questo qua Di questa tonalità Sia uno Delle abbinamenti Oltre a essere uno dei più classici E anche uno dei più fighi E infatti Tech4Play Lo so Lo nomino sempre Perché Per chi non lo sa Il mio youtuber preferito E Lo utilizza molto Cioè L'utilizza Qua ci stanno le slab Vediamo un po' No Così Ma perché sono così storto oggi col mouse? Devo cambiarlo sto mouse ragazzi Io penso di avere uno dei mouse più scarsi che ci sono Ieri sono andato in un negozio di cinesi Ho visto che i mouse che vedevano erano superiori al mio E Anche perché mio oltre ad essere cinese è pure rotto Quindi Ok Ehm Sì Sì Penso che tutti quanti lo serviranno da qua al mondo Adesso voglio provare a fare una bella cosa Ovvero andare su quell'albero là Circa Ok Mamma mia che cecchino ragazzi Ok E Sì Penso che la torre ne farò Una sola a sto punto Più Più alta possibile Tipo alta 10 Ne faccio un'alta 10 lì Sì A Al A fianco al getto d'acqua Oddio Sto per fare Cioè se adesso sbaglio Io devo buttarmi giù una torre intera di ossidiana E buttarsi giù una torre intera di ossidiana è Probabilmente farò uno stacco Quindi voi Per voi durerà un secondo Ma per me dura un quarto d'ora Io in un quarto d'ora Devo Finire di registrare questi episodi un'altra volta praticamente Quindi no 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 Devo Devo assolutamente farlo giusto al primo colpo Allora E direi di utilizzare ancora un po' questa Stone Endstone che abbiamo Già che ce l'abbiamo L'abbiamo farmata così tanta Ok E Facciamo un po' qualcosa così Comunque in sto periodo potrebbero non uscire video ragazzi Cioè potrebbe ogni tanto un giorno potrebbe rimanere vuoto Perché sto di nuovo facendo dei video di sponsorizzazione qua e là E inoltre mi sto occupando del contest per i 300 iscritti Che è veramente una faticaccia Perché mi ha dato la possibilità di conoscere tantissimi youtuber bravi Tantissimi youtuber che Magari non sono ancora bravi ma Quasi tutti vogliono Crescere E ci stanno mettendo molto impegno E E inoltre mi ha dato anche la possibilità di Appunto Di crescere Però Ho appunto bisogno di Cioè è veramente una cosa dura Comunque qua La torre sarà più o meno così Ok ho deciso Adesso parto Sono convinto dai Allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 E 10 Ok Fermi tutti Non toccate nulla Così è abbastanza alta Andiamo subito a controllare Non voglio fare dei fail Aiuto Dei ammazzare Ferre Grazie Allora E E niente ragazzi Comunque Spero davvero Cioè Voglio puntare veramente molto Su questa serie con le mode Ragazzi perché E Cioè ormai per chi non l'avesse capito Io Nei moniche Miner Abbiamo formato una specie di gruppetto No E Più passerà il tempo Più creeremo Community O comunque cercheremo di Creare delle cose anche noi Cercheremo sempre di E Di Creare Cioè di avere nuove idee sempre Ok 15 blocchi Sarà alta 15 blocchi Deciso E Speriamo che basti la L'obzidiana Speriamo che basti Altrimenti Ne devo andare a fare ancora E non sarebbe per niente una bella cosa E Posso provare a darle prima spessore Va Poi a rialzarla dopo E E niente ragazzi Comunque appunto Come stavo dicendo Sono convinto che E Noi Riusciremo a fare qualcosa di Di grande Ne sono certo perché Stiamo facendo veramente un bel lavoro Sono soddisfatto E Quindi niente ragazzi Adesso Andiamo appunto a A finire di fare questa torre Non taglierò questa parte perché Voglio che vediate anche voi Se sbaglio E che appunto Se sbaglio qua Veramente Sono non fottuto di più Ok Ok Così Nooo Ho sbagliato già Calmo Finchè un blocco Va bene Ok Ah Cosa importantissima Così magari Con il legno Che ne abbiamo giusto 4 Mettiamo delle slab qua Altrimenti si spawnano dei mob Ok 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 Tanto non le vedrà mai nessuno Perché Saranno circondate da Ossidiana Solo Ok Ok Dai dai Su 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 Spera anche basti Speriamo 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 Perché veramente Non c'ho più voglia di farmare Sto morendo di nuovo Oddio Nell'ultimo episodio Non so se l'ho già detto prima Sì mi sembra che l'ho già detto prima Comunque sono morto Ho fatto un fail allucinante Infatti volevo Quando montavo ho detto Ce la metto la scritta fail Poi ho detto no dai Ma perché sbaglio mettere Perché il mouse non si muove Dai mouse Su Dai Che poi prima o poi ti cambia Vai in pensione La tua pensione sarà Il bidone della spazzatura Oddio Davvero il mouse che ho ragazzi Non ve l'ho mai parlato Ma è un mouse che Qualcosa di Vergognoso Vergognoso veramente Allora 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 Adesso cadere qua dentro Sarebbe un fail epico Quindi mettiamoci Tipo dell'acqua va Ok E E E Come facciamo però Facciamo un'altra cosa Facciamo così Da questo lato qui E buttiamoci di sotto Ok Andiamo di nuovo sul faro A vedere come sta E Se è il caso di rialzarla Perché adesso l'ho dato un po' di spessore Cioè l'ho L'ho fatta la torre E non voglio farla troppo alta Perché altrimenti poi diventa più alta del faro Ci sono delle cose brutte Diciamo Comunque mi piace Sta cosa di aver creato la fortezza E le torri di Ossidiana Che ci sono nel nether Del tempio Anche la piramide Non ve l'ho detto Ragazzi Vediamo se si vede di qua Anzi sicuramente si vede Sotto consiglio di Jerry Ho trasformato La piramide Eh no Devo andare a far vedere adesso Perché non si vede bene qua Eh si Un po' di spessore ci va ancora Cioè un po' di altezza ci va ancora E oppure ne facciamo una più bassa Tipo lì da 5 Ok Ne facciamo un'altra più bassa Lì da 5 Perfetto E appunto Stavo dicendo che Sotto consiglio di Jerry Che è appunto un utente Che tra l'altro Anche lui fa Un gameplay E Ho visto Questo Cioè mi ha detto di fare questo Ovvero Togliere i blocchi E farlo di scale Anche io ci avevo pensato Ma pensavo fosse troppo costoso Poi ho detto Ma si al massimo Vado in fondo all'oceano E farmo un po' di sabbia E alla fine aveva ragione Si è un'altra cosa Adesso sta molto meglio Anche col tempietto Eh si ci sta Ci sta ci sta Qua abbiamo una Crafting table Dimenticata da tutti Vieni con me Crafting table Non ti lascerò sola E questa crafting table Resterà qua E Uh manca una crafting table Sul faro forse Ah no una cosa Che manca sul faro Ecco E Del bom mill Del bom mill Non sopra il faro Ma bensì Qua perché ho fatto dei casini Con l'acqua Ho tolto tutta l'erba Adesso quindi andiamo a prendere Del bom mill E andiamo a Eh Fare Il tutto Il tutto ciò Andiamo di qua Prendiamo Eh Un po' di bom mill Magari c'era già di qua Sì c'era già di qua Abbiamo degli stack Solo Ok E Niente Comunque ragazzi La situazione è questa Vorrei che nei commenti Eh Ne Cioè possiamo magari Farci un piccolo discorso Qua sotto nei commenti C'è anche sulla pagina facebook Che tra l'altro è sempre in descrizione Ma nessuno va mai a vedere Eh Lol Comunque Eh Morale della storia Cosa volevo dire ragazzi Che Eh Voglio Eh Finire più possibili Cioè più progetti possibili Prima che esca la 1.7 Però Anche se io adesso Vi metto la creative E comincio a costruire tutto Con la creative Non riesco a finire Tutti i progetti Che ho appunto da finire E non riesco a iniziare Assolutamente nessuno Quindi ecco adesso Non iniziamo più nessun progetto Ma cerchiamo di finire Per bene quelli che abbiamo Perché comunque Riusciamo a fare qualcosa No Tipo l'isola è un progetto Che adesso Cioè questo arcipelago È un progetto Che sto portando avanti E non voglio assolutamente mollare Quindi appunto Dobbiamo Inventarci qualcosa Adesso ho anche Ovviamente una bella idea Tipo andare a mettere Una torcia lì in cima Al faro Cioè lì in cima All'isoletta Comunque niente ragazzi Adesso appunto Finiamo di fare questo lavoro E poi penso che Riguardante l'isola Abbiamo fatto tutto Adesso diamo anche un'occhiata Sul libro Ma penso che L'isola sia veramente Questo arcipelago Non l'isola Cioè perché L'isola è una sola L'arcipelago Sono tante isole E Stavo appunto dicendo che E Controlleremo Adesso Appena arriviamo in cima Occhio Ok Appena arriviamo in cima Controlleremo Il libro Che abbiamo qua Il nostro felissimo libro Allora qua abbiamo Il traguardo Lo al portale L'abbiamo sistemato Piramidi E ponte L'abbiamo fatto Neve Lo faremo And E quello che stiamo facendo adesso Il faro l'abbiamo fatto Il corrimano l'abbiamo fatto Il tempio di cobblestone Lo stiamo facendo La ferrovia Manca Ok La ferrovia Il Secondo ponte del faro L'abbiamo fatto Quasi sono le coordinate Ormai Dimenticate Quindi tipo questo Si può eliminare Ok Questo lo teniamo Un secondo Ancora Allora Eliminiamo un paio di cosette Tipo Secondo ponte del faro Lo eliminiamo Ferrovia Ferrovia Tempio di cobblestone Ricordiamoci Ferrovia Tempio di cobblestone Neve Ok E basta Quindi ferrovia Tempio di cobblestone E neve Allora Neve Ferrovia E tempio Ok Fatto E ok Perfetto Quindi adesso Scendiamo di nuovo di qua Opla E qua Ci sta un'altra Appunto Torretta Che appunto Bisogna anche qua Fare Il tutto L'ambaradam Strano Per Spostarla un po' Ok Ok Quindi qua Facciamo di nuovo Un Bel Due 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 E due Qua la facciamo più bassa Però quindi sarà Uno Due Tre Quattro E cinque Di nuovo Uno Due Tre Quattro Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Quattro Cinque Uno Due Tre Tre Quattro Cinque E Uno Due Tre Quattro Cinque Dai Su No Ho finito l'ossidiana Perché Oddio Devo andare Così vi faccio dire Anche dove l'ho Dove l'ho farmato Da quest'ossidiana Dove ho preso i diamanti Comunque ragazzi Penso che questo episodio sia giunto al termine Sì direi proprio di sì Andiamo a dormire Abbiamo solo più tre obiettivi da fare Per quanto riguarda l'arcipelago Poi torneremo indietro E cercheremo di finire Prima di tutto la stalla Che farò molto lavoro Of camera per quella stalla Perché Cioè potrei fare di nuovo Uno speed build Però A questo punto avrei dovuto farlo tutto insieme No non mi sembra il caso Comunque voi commentate ragazzi Ditemi che cosa fare Perché comunque Sono veramente E' contento Voglio fare un ringraziamento a tutti Perché i commenti Dall'ultimo episodio Che per chi si ricorda Erano Qua continuo a scrivere V lo so Comunque Per chi si ricorda Nell'episodio scorsi Mi ero lamentato Tra virgolette Perché i commenti Si stavano riducendo tantissimo E E Invece Dominate un po' Quelle cose è successo E i commenti Si sono Rissanati Diciamo Infatti Dalle stranze Statistiche che erano Meno 20% Meno 20% Meno 40% Siamo passati a Meno 10% Mi sembra Meno 10% E Più 9% Sui commenti Quindi abbiamo fatto Da meno 40% A più 9% Quindi ragazzi Veramente vuol dire Che c'è stato Un raddoppio Si quasi Un raddoppio Si un raddoppio Dei commenti Questo veramente Mi ha fatto molto piacere Io quindi vi invito Come al solito A commentare Maiale Non mi seguire Grazie E niente Vi faccio vedere Giusto Giusto Dove ho preso Tutta questa obsidiana E Poi la andrò a finire E lo ce l'andrò A mettere là E E basta Non farò più nient'altro Forse ne ho ancora qua Vediamo un attimino Ok beh Non vi sto più a noiare Ragazzi La vado a piazzare Off camera Io quindi Come al solito Vi ringrazio Per il sostegno Per i commenti Che appunto Sono saliti Per tutte le iscrizioni Perché vedo che stiamo crescendo Spero che con questi video Che sto preparando Per Anche per altri canali Che sto facendo collaborazioni Di qua e di là Spero appunto Di poter avere Sempre più persone Che Si uniranno A questa serie Quindi oggi appunto Abbiamo anche raggiunto L'episodo 110 Mi fa molto piacere Ragazzi Voglio Voglio ringraziarvi Sono piccoli traguardi Che però Vogliono dire tanto Credetemi Quindi Un grazie speciale A tutti quanti E niente Vi saluto Qua mancano 4 pezzi Si arca Vado a prendere E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti E ancora grazie